Salve ragazzi, bentornati su Inepixa Channel, chi vi parla sono sempre io, il blocco che mi chiede il mago di paese. Oggi, in questa puntata, vi presento il mio sufforatore, il Cima S420, che utilizzeremo per dare lo zolfo alle nocciole. Il Cima è, riconosciuto da tutti, come una garanzia per i sufforatori, questa ormai è una versione poco vecchiotta di qualche anno fa, circa di 12-13 anni fa, comunque strutturalmente è rimasto sempre questo, è caratterizzato da una buona turbina che fa un insufflametto di aria abbastanza potente e in questo caso abbiamo un serbatoio che tiene otto sacchetti di zolfo, pare a due quintali. Qui vediamo, ad esempio dietro, vediamo che per dare lo zolfo alle nocciole ho configurato i due ventagli, girandoli tutti e due da una parte. Questo perché, vivendo nel paese del vento, dove non esiste una giornata senza vento, fare il centro della filiera e aspettare che si allarghi tutta la pianta è complicato, perché tira sempre vento. Così preferisco passare vicino alla pianta e allargare in un superventaglio di 90 gradi. Ci sarebbe anche un'applicazione da mettere di cannone più ventaglio, che io non ho, ma va benissimo così, quindi non c'è niente altro da aggiungere. La pianta di carico è quella solita di atomizzatori, qui dentro c'è il nostro zolfo, digerisce qualsiasi tipo di zolfo, non ci sono problemi, l'uso della vita va benissimo, quindi non ci resta che entrare in azione e provarlo, quindi rock and roll e noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao a tutti. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.